Presidente, per esprimere che la Consigliera Catini non ha indiformità con il gruppo, perché il gruppo voterà favorevolmente a questo ordine del giorno, mi preme di poter fare alcune precisazioni anche sull'intervento della Consigliera Montella, questa amministrazione ha posto una grandissima attenzione alla questione di Roma metropolitana, c'è stato un intervento per la messa in liquidazione della società che adesso col tempo, grazie proprio a quella decisione, ha permesso di poter elaborare un percorso per trovare delle soluzioni che in quel momento, nel momento in cui noi abbiamo posto all'approvazione dell'Assemblea Capitolina quella delibera, di fatto ci ha fatto prendere del tempo per poter trovare delle soluzioni. Ora, per carità, la situazione di Roma metropolitana è una situazione molto delicata, molto complessa, che si è anche incastrata un pochino nel corso di questi mesi, anche con delle sentenze, è ancora molto delicata ed è questo il motivo per cui la maggioranza vota favorevolmente a questo ordine del giorno, però non è stata presa sotto gamba, è stata presa con consapevolezza certe decisioni, non c'è proprio nessun problema per la maggioranza prendere delle decisioni e magari anche rivederle nel corso del tempo, ma vorrei sottolineare questo aspetto, in quel momento in cui abbiamo preso quella decisione è possibile che forse se avessimo dato coro, non avessimo fatto quell'azione, gli eventi sarebbero precipitati, perché lo impone la legge? Allora, per questo io difendo ancora quella decisione, benché oggi stiamo prendendo delle decisioni che vanno in una direzione diversa e che con favore esprimo che questo pensiero adesso è di tutta l'Aula, perché sicuramente poi questo ordine del giorno verrà votato favorevolmente da tutta l'Aula. Ripeto, la situazione è ancora molto delicata, non è stata presa sotto gamba e comunque ne difendo comunque a nome della maggioranza le decisioni che sono state prese. Grazie.